applausi vai devi syncare l'audio si ma cristo non serve farlo così forte beh ragazzi come benvenuti con questo nuovo video ci troviamo oggi finalmente in un vecchio video che facevamo tanto tempo fa quando ci vediamo cara teser abbiamo fatto una volta una l'altra era sul mio canale l'abbiamo persa quindi una volta sola oddio che schifo una volta 2 player 1 qualcosa che io uso la tastiera lui usa il mouse vieni più in qua teresino su ero brain chamber quindi non c'è un bel like cerchiamo di rimanere 2.000 like e nulla grande knabaris grande bigstar 71 grande mizu grande mizu on crack c'hai capito? c'è mizu e mizu on crack ok devi leggere con la tua entornità grazie e non ho messo le cuffie c'è il dolby che ansia oddio mi hai sventato un po' sai che quando io gioco senza cuffie dico ah è vero le cuffie mi dimentico ogni volta dai che ci start adesso i vincitori potranno andare i perdentatori per moriranno cominciamo già in piedi lava già in piedi lava Teresa già in piedi lava già dobbiamo vincere di qua di qua deve impegnarci sappiamo vincere devi essere cattivo devi essere migliore cavolo ok assumo tu shifta quando colpisci ok ok appena veni colpito shifta non funzionano perchè fai schifo ah io faccio schifo i tuoi trucchi non funzionano io faccio schifo perchè quando l'unico punto da non fare con le mie forze l'abbiamo fatto no perchè poteva dipendere da me non è vero quanti ci mettono sti su mosti uno è andato si erano tutti quanti li calcola ma sta laggando tutto o sbaglio? no sali 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 te l'ho detto che era su diamine ok ok ci stanno puntando oddio uno c'è lo scudo come ha fatto a non morire tra l'altro ci hanno puntato tutti tutti in quattro erano contro di noi colpa tua però non lo so dai mettetelo su questo unicorno grande sono tutti fan anche l'altro sto ragazzo non ce l'ha notati calma qua ci vuole coordinazione aspetta che indietreggio vado porco due vai dritto questo mouse devi mettere il mouse dritto oh shit voi li hanno buttati giù i bastardi di mezzo vai 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 stai lagg non si posso farci no chi è stato l'infame bastardo abbiamo un punto in atto round a sinistra arriva bravo hai fatto gira non in due euro eh beh no vediamo dipende da quello che fa la nostra amicona ah vince chi fa il team si 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 ma seriamente no che cazzo dici che cazzo lo fa 600 lo so te e la geografia no sei trattato anche te in quel mood panico una sasca e ancora ok fa niente forse le più di 600 comunque credo devi avermi fatto un solo punto in 10 round non ne ho fatto uno appunto ma neanche l'altra volta siamo ultimi uomo abbiamo ancora 20 round comunque se pensi che siamo all'undicesimo e il migliore c'ha 5 punti è scandaloso è uno è passato no 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 era fatta è andata al bar all'ultimo è andata al bar dove è il target è la no 519 519 yeah ok vediamo gli altri uno scrive ancora 5 vai avanti vai avanti ah no lei la tenettino e l'incudini io non c'ho parole io cosa c'è insomma sei tu che devi muovere il player sei veramente scandaloso allora la calma aspetta salta 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 in avanti vai tu tira ce l'ho dato? si ce l'ho dato ce l'ho dato ok calma questo qua devi girare attorno bravo ci siamo ancora tirati un tot qua vecchio ok ok ci siamo tagliamo la strada no vai qua no ok calma tira dritto no si 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 stai combinando il delirio oh no uomo 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 si 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 oh mio dio questo qua non so cosa cazzo abbiamo combinato ok no cosa no 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 che cazzo abbiamo fatto quello di prima abbiamo fatto quattro punti di fila vorrei fare di visita madonna che hype però siamo comunque guarda che è una lobby scandalosa questa si 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 terribili ma guarda quello lì che vola e prenderà il punto alla fine perché sta laggando con un sacco no che c'è come va tutto bene vediamo 3 2 1 non cade zio non cade vediamo se prende il punto alla fine si ti ha dato il punto ma che cosa ok ma gente siamo qua perfetto vediamo un attino ma che bianco bianco qua ah lui rimane lì si no 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 era bianco eri sul blu ti sei spostato sul blu per guardare lui sei un pirla si veloce eh no è dentro è dentro è dentro allora entra entra ok verso l'alto si si verso l'alto come ha fatto quello di arrivare subito in alto hai visto magari ha rotto subito all'alto e ha iniziato a fallare è lì si 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 top yes eh ma siamo eh non so se la facciamo no vincere no o diciamo che andiamo 10 round eh eh dobbiamo fare minimo 10 punti vecchio no si perchè gli altri meno 5 ne fanno no siamo a meno 6 che eccola che uno questo qua è quello di prima che citta no no quello lì è che eh no è lui ah non c'è più uscito è lui ok vai ok no marco che cazzo eh no mi si è aperto la eh zio no la hai aperta dai non è che mi si è aperta eh premendo le case qua diavile non mi giudicare uno scrive hacks no vedi che c'è lo stesso il cheater io lo riconosco perchè avendo usato le hack nella troll laura ah ok perchè quello lì c'ha il come cazzo si chiama quella che ti riconosce appena ti riconosce l'utente a fianco ti impazzisce inizia a ruoteare per colpire qualunque cosa attorno ok jump in the right bull ok perfetto orange ok stai fermo adesso vedi che c'ha il coltetto black no non è caduto ok è caduto però avrà tolto la fly adesso si 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 ok pink di là di là di là salta 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 ora l'ultimo gli ultimi top guarda l'alto ok no mi hanno tolto vecchio mi ero tolto un tot no io non c'ho parole è colpa tua io no è colpa tua di elomino ok non posso giudicare mi devo star fermo esatto allora questo punto qua sai che non lo facciamo saltella di là a destra di là a destra guarda che ti arriva ok mamma come lo fa neanche rainbow si 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 non è arrivato ok arriva 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 mamma come lo facciamo raga ci siamo ci siamo manca l'ultimo è qua è qua no è rosso no è il nostro attacchiamo 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 ok vai andiamo avoid no uomo di guarda giù guarda giù uomo di guarda giù guarda giù no giù uomo uomo ok siamo a posto wow spam ok no ok colpiamolo ok uno fatto ok sempre questo ok uuuh ok questo uuuh no ok ancora uno nooo nooo mintable spam mintable spam cazzo che spettacolo peccato che cazzo siamo quasi un neon cosa si chiama questa ok vai la fornace easy zio ok 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 stai sbagliando pure la fornace comunque la coordinazione è scelta tastina non lo aspettavo vai ok ok no questo qua cazzo perché stai laggando un foto madonna perché hai preso una freccia con flame ma è vero lei ha notato anche te ok ma che cazzo ma che connessione ho no zio no questo qua è un fan ci trolla che cazzo ma ma che cosa sta succedendo marco uomo è il nostro momento taglia no 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 è il fuoco del fan ricordatelo ok ok no no non ci credo ci ho tagliato la strada io no no credo che sia la partita più fallimentare uomo almeno non ultimi dobbiamo finire dai cazzo gira dammi il mio tempo tira un po' più dritto ok ahahahah ahahahah io ne mieri dio che hype vai ripitate ripeka ok ok no manca un sopra è scomparsa è sparita? NO ultimi allora con tanto allenamento ce la potremo fare secondo me in un futuro lontano quindio ragazzi spero che in questo video vi ricercitivi e lasciate un commento marchettuto Gigi tirarlo su screen la marchettuto ragazzi bella